Cari ascoltatori, bentornati o benvenuti a Radio Pugginionaire, la vostra fonte per immergervi nelle storie e nella musica degli artisti più amati italiani ed internazionali. Oggi siamo emozionati di presentarvi una notizia davvero speciale da uno dei pilastri indiscussi della musica italiana, Vasco Rossi. L'immortale Blasco nazionale, come spesso e affettuosamente chiamato da suoi devoti fans, sta per regalare al mondo un gioiello unico. Vasco ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo Gli sbagli che fai. Una canzone creata appositamente per il biopic dedicato alla sua vita incredibile. Vasco Rossi, il super vissuto, pronto ad arrivare su Netflix il 27 settembre 2023. Per cui tra pochissimi giorni, tra una settimana, la carriera di Vasco Rossi è una storia epica, infatti, che abbraccia più di 40 anni di musica e passione. Con il suo stile inconfondibile e la sua voce carismatica e i suoi testi che toccano un po' tutti, Vasco ha attraversato decenni di cambiamenti musicali e sfide culturali, rimanendo sempre al centro della scena. La sua biografia è un racconto di successi straordinari, sogni audaci, ribellione e un amore profondo per la musica. In questa lunga e avvincente carriera Vasco ha regalato al mondo una serie di album che sono diventati veri e propri capolavori. Da bollicine a vado al massimo, da c'è chi dice no a nessun pericolo per te. Ogni album ha rappresentato una tappa fondamentale nel suo cammino musicale. Vasco ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, riempito gli stadi più imponenti e inciso canzoni che sono ormai parte integrante della cultura musicale italiana. Ma veniamo al presente. Il suo nuovo singolo, Gli sbagli che fai, è atteso con grande trepidazione. Il titolo stesso riflette la filosofia di vita di Vasco, la convinzione che ogni errore commesso lungo il percorso contribuisca a plasmare chi siamo. Come ha condiviso il rocker sui social, io sono quello che sono, grazie a tutto quello che ho fatto, anche e soprattutto agli sbagli. Questo nuovo singolo sarà disponibile dal 27 settembre in contemporanea con l'uscita della docuserie che racconta la sua straordinaria vita. La canzone è destinata a portare la sua musica e la sua filosofia di vita ad un pubblico globale ancora più vasto. Nel brano c'è una frase particolarmente significativa. Questo messaggio è il nucleo della connessione tra un artista e il suo pubblico. Un legame che Vasco ha coltivato con dedizione in ogni concerto e in ogni canzone. Vasco Rossi, il super vissuto, sarà una serie speciale su Netflix che offre uno sguardo intimo sulla vita di Vasco. Gran parte delle riprese è stata effettuata durante i due anni di pandemia, un periodo di pausa inaspettato dalla frenesia della sua carriera. Questo ha permesso a Vasco di riflettere sulle tappe più significative della sua carriera e della sua vita, dai giorni a Zocca, la sua città natale, fino agli splendori di Los Angeles. Attraverso interviste, materiali d'archivio e testimonianze preziose, la serie ci porterà dentro il cuore e la mente di questo grande artista. La docu-serie è stata scritta da Igor Artibani e Guglielmo Arie, insieme a Pepsi Romanov, che neanche regista, infatti ricordiamo la sua regia nell'ultimo videoclip. È prodotta da Solaris Media di Guglielmo Arie e Azzur Arie, in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsi Romanov. E allora non vediamo l'ora di immergerci in questo nuovo capitolo della storia di Vasco Rossi, sia nella sua musica che nella sua vita. Continuate a seguirci su Radio Pugginionaire per tutte le ultime notizie sulla musica e sugli artisti che amate. Restate sintonizzati, ci ascoltiamo nella prossima puntata.